Proseguono con successo le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Fino al 2 aprile fa tappa a Villardora, presso il Palazzo Comunale, la mostra Ritratto di una terra, emozioni e paesaggi del Piemonte. Lettere, poesie, dipinti, oggetti e immagini fotografiche offrono al visitatore frammenti di paesaggio che permettono di ricostruire l'emozione suscitato dai paesaggi della nostra regione nel corso della storia. Fino al 25 aprile, presso la sala consigliare del Comune di Lui, in provincia di Alessandria, è allestita la mostra Ex Voto, arte popolare e comportamento devozionale, con le immagini di quadri, gioielli, preziosi manufatti, risultati di una promessa fatta dal credente in cambio di una grazia.